Subemendato parere favorevole, sullo 0.1.13.100 delle commissioni parere favorevole, sugli identici 1.13 Mattarrese, 1.54 Benamati, subemendati parere favorevole. Grazie. Governo. Conforme al relatore. Grazie. Scusi, onorevole Ricciatti, è che io avevo già scritto alcuni dei pareri perché lei li aveva già dati prima. Allora, favorevole su tutti. Grazie, onorevole. Bene, passiamo ai voti. Allora, cominciamo con il 0.1.81.100 delle commissioni. Chiede di intervenire l'onorevole Massa. Prego, onorevole Massa. Volevo, Presidente, svolgere qualche riflessione sull'emendamento all'esito, così come subemendato. Perché credo che si sia nella nuova formulazione definito in maniera ancora più netta la questione relativa al finanziamento degli interventi per l'ambientalizzazione e le bonifiche si sia ulteriormente chiarito come l'onere di quegli interventi debba essere recuperato a carico dei soggetti responsabili. Nella sostanza, l'emendamento sul quale abbiamo espresso il parere favorevole recupera... RECUPERA RECUPERA Grazie.